Hanno aspettato l'arrivo del furgone portavalori e appena la guardia giurata è scesa per consegnare il denaro alla banca, uno dei banditi ha puntato la pistola e si è fatto consegnare il denaro. Rapina a mano armata questa mattina alle 8 alla banca di credito cooperativo di Via Lovati a Reschigliano di Campodarsego. Due banditi con il volto coperto sono entrati in azione a colpo sicuro. In pochi minuti si sono fatti consegnare il denaro e poi sono scappati. Un bandito agito mentre l'altro aspettava in macchina. Le guardie giurate non hanno posto resistenza e hanno subito allertato i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere della banca e stanno indagando. Al momento non è ancora stimato il bottino ma si presume sia di diverse migliaia di euro. Sono in corso poste di blocco per intracciare l'auto dei rapinatori.